Il tema centrale del Festival Francescano 2014 è quello della Letizia, quello della gioia. Uno degli interventi più importanti di questa manifestazione è stata la riflessione che fra Dino Dozzi e fra Mauro Ruzzorini hanno fatto nel pomeriggio di oggi, qui di fronte al Tempio Malatestiano di Rimini. Allora, fra te Dino, tema della vera Letizia, che cosa ci può raccontare oggi? Qualcosa ci dice oggi questo tema? Beh, è una pagina straordinariamente forte e di grandissima attualità. È drammatica perché è anche autobiografica. Francesco dice ai suoi frati, se volete cercare la realizzazione dell'ordine e di voi stessi, se volete trovare la felicità, la letizia, non dovete andare per le strade della ricerca, della cultura, del potere ecclesiastico e politico e dei risultati evangelici. State al vostro posto con umiltà, con serenità, anche se la porta degli altri resta chiusa. Trovate la vostra consistenza, la vostra verità in qualcuno che vi abita, nel Signore che resta con voi, anche se gli altri vi tengono chiusa la porta. Fra Mauro, appunto, diciamo che la tua riflessione è stata molto apprezzata, molto anche, come dire, riportata al tema personale, come vivere questa esperienza di Letizia nella propria vita personale. Ecco, questa è la sfida. Sì, 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 penso che questo tema sia quanto mai attuale oggi. incontri l'uomo di oggi, noi, con le nostre paure, le nostre ansie, le nostre angosce, e ci inviti a non retrocedere, ma ad affrontarle. Si può affrontare, si può raggiungere uno stato, appunto, di benessere, di letizia, non fuggendo, ma andando a fondo, affrontando. Mentre, appunto, parlavamo oggi, avevo in mente anche tanti volti, tante persone che dicono, consegnano nei colloqui, nella terapia, nelle conversazioni, le loro ansie, le loro paure. Quanto nel nostro vocabolario oggi è entrata la parola angoscia, no? Crisi d'ansia, crisi di panico, no? Allora, siamo soggetti a questo, siamo forse più esposti. Tutti noi abbiamo aree di fragilità, dove le nostre paure, le nostre ansie, ci mettono di fronte, appunto, a questi fantasmi, a quel rifiuto, in fondo, che ha sperimentato Francesco. Ecco, Francesco è qui per dirci, si può, si può, si può affrontare tutto questo. Questo non è l'ultima parola per ognuno di noi. Al di là c'è vita, c'è vera gioia, c'è vera letizia. Basta avere il coraggio, appunto, di non retrocedere e di andare avanti. Magari non da soli, magari accompagnati, ma di sperimentare, appunto, che non è la paura, non è l'ansia, non è l'angoscia, non è il rifiuto, l'ultima parola per noi. Ma c'è qualcosa che ci aspetta, ed è veramente redentivo, sia da un punto di vista umano che spirituale. Grazie. 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 Grazie.